Si è tenuto a Pievetorina, presso la nuova scuola elementare, un concerto intitolato La musica e il cuore con i musicisti del Teatro alla Scala di Milano. Il Teatro alla Scala di Milano e i lavoratori di Kralz II hanno dato un importante contributo insieme ad altri donatori per la realizzazione del nuovo edificio che ospita l'Istituto Scolastico di Pievetorina. Durante il concerto i trombettisti Mauro Edantippe e Gianni della Turca, con il corno Roberto Miele, il basso tuba Giovanni Gatto, il trombone Roberto Gatti insieme al soprano Barbara Costa, hanno eseguito delle opere di Puccini, Verdi, Morriconi, Mascagni, Bizet, Clean, Short, Miele, Menken e Henderson. Il gruppo di musicisti del Teatro alla Scala insieme al soprano ha interpretato anche dei famosi brani popolari e canzoni di musica leggera, tanto che il concerto si è concluso con la canzone Se Telefonando di Milano. Alla fine del concerto il primo cittadino di Pievetorina, Alessandro Gentilucci, ha intitolato uno spazio della nuova scuola al Teatro alla Scala e dai lavoratori di la Kralz II per aver generosamente contribuito a far diventare realtà il progetto del nuovo edificio. Alessandro Gentiliano Alessandro Gentiliano Alessandro Gentiliano Alessandro Gentiliano